Oscar Monaco, Rifondazione Comunista. Le ragioni del no sono semplici. Parto da una provocazione. Renzi ha ragione. Quando dice che sono 40 anni e si aspetta questa riforma, ha ragione. Il problema è chi l'aspetta. L'aspetta l'isogelli, così come l'ha descritta nel suo piano di rinascita democratica. L'aspetta la grande finanza internazionale. L'aspettano i padroni e gli industriali. La Costituzione va mantenuta e applicata perché non è il passato ma è una porta verso il futuro. Dobbiamo difendere la Costituzione perché chi non ha potere e non ha capitali ha la democrazia per far valere le proprie ragioni. La Costituzione repubblicana, democratica e antifascista ci consente appunto di praticare la democrazia come terreno su cui far avanzare i nostri diritti.